Pizza? Chi ha detto che i giapponesi non sanno fare la pizza? Nel video di oggi impareremo a conoscere la pizza made in Japan! Che sta preparando? Io non so come si prepara la pizza Mi hanno appena portato il caffè Pensate che praticamente qua è sempre pizza che non mi sta sponsorizzando il video C'è questa campaign con cui ti danno gratis anche il caffè se vieni a pranzo Ecco qua che sta preparando l'impasto Vedete che anche in Giappone in realtà la pizza si può mangiare Io non sono un esperto di pizza quindi non so se questo è il modo corretto per preparare la pizza Se qualcuno magari che mi segue pizzaiolo ditemi se si prepara così Poi sempre pizza almeno è scritto giusto Io di solito quando devo scegliere un ristorante italiano all'estero Guardo sempre che i nomi siano scritti in modi giusti E se i nomi sono scritti in modi giusti io mi fido Nella pizza margherita comunque c'è la salsa di pomodoro La mozzarella, il basilico e poi il formaggio Non sapevo che c'era anche dell'altro formaggio Formaggio tipo grana penso che sia Guardate che la mette nel forno, la mette nel forno Le pizze che potete trovare c'è la pizza marinara Che siccome tanti giapponesi non lo sanno c'è scritto che è senza formaggio Poi c'è la pizza margherita La pizza romana La pizza la genovese che la genovese sarebbe tipo col nostro pesto Ah guardate che è uscita, è uscita Andiamo a vedere, andiamo a vedere che è uscita la pizza C'è la preparata Shifo al sempre pizza Quindi vabbè Comunque guardate come si presenta bene la nostra pizza Vabbè la pizza col caffè non è che si prevede però Vabbè anche se siamo in una pizzeria in Giappone ti danno sempre le Oshibori per pulirsi le mani Che mi sembra Nooo Sono utilissime, anche buone nel caffè Vabbè comunque mi pulisco le mani con questo Oshibori Adesso provo ad assaggiare questa pizza Buona Cioè è diversa però costa veramente poco Costa 4,50€ Io non sono un intenditore di pizze Quindi forse sono l'ultima persona che dovrei fare un video review della pizza Però a me sembra buona Ha dei prezzi comunque molto economici C'è in varie stazioni quindi veramente ve la consiglio Adesso gli dico alla mia cameraman di fare una pausa Che così ce la mangiamo insieme questa pizza Ecco qua Un altro pezzo di pizza Oshibori Adesso sta preparando un'altra pizza la nostra signorina Due pizze sta preparando altre due pizze Forse questa che sta preparando è la caccio e pepe Che non ho capito che cavolo è Se qualcuno me lo sa dire spiegatela Caccio e pepe di qua sta facendo secondo me una mozzarella Non lo so non siamo noi che abbiamo ordinato queste due pizze Comunque Questo personaggino un po' dalle posizioni simpatiche Adesso aggiunge il parmigiano Non so se è parmigiano questo che aggiunge alla fine Comunque miele Forse è hachimitsu E poi l'olio d'oliva che non può mancare Data adesso che la mette dentro La stende per bene E la mette dentro forno Vi faccio vedere le pizze che hanno in menù C'hanno la marinara Poi c'hanno la margherita La romana La genovese che è tipo col pesto La carbonara che praticamente c'è su la pasta carbonara La caccio e pepe che è abbastanza piccante Questa non penso che la mangerei mai C'è praticamente su il mais Che è fatta con la crema Oh stanno per uscire le pizze Aspetta che ve le faccio vedere Ah vedi le portano da esporto Quindi le mettono praticamente dentro queste box qui Che sono molto simili a quelle che mi ha detto Vedete con la scritta sempre pizza Eccola qua che esce anche la prossima pizza Questa invece la mettono nella carta Poi c'è la taglia Così si accomodi Perché i giapponesi non sanno usare le forchette Anche questa la taglia per bene Guarda Un po' bruciacchiata E questa proprio deve essere la mia Però boh E' buona Comunque l'impasto è veramente delizioso Per i miei gusti Ma come vi ho detto Io non me ne intendo molto di pizza Quindi non ne parlo Io faccio video sul Giappone La mette dentro E adesso se la prende Ok comunque andiamo avanti con la lista delle pizze Dopo la nostra pizza corn Che è quella fatta praticamente col mais E la crema di mais Poi c'è la pizza pescatore La pizza pescatore è una pizza che non mi piace mai Poi c'è la pizza con tutte le verdure Poi c'è la rimonè Che è fatta praticamente con la pancetta La panna E la salsa di limone Il basilico A me questa non ispira Costa anche di più di tutte le altre pizze Insieme alla carbonara E' la più costosa Ma secondo me non merita Poi c'abbiamo la pizza agli olio Poi c'è la pizza sunato onion Che sarebbe la pizza con il tonno e la cipolla Poi c'abbiamo la natsu sarami e togarashi Che praticamente sarebbe questa pizza piccante Tipo la nostra diavola Comunque guardate che non sono io che faccio i video male E' proprio questo che è un po' slavato E quindi scusate E poi c'è la quattro formaggi Che è quella con tutti i formaggi Ok allora siamo qua con Sebastiano Serafini Ciao Che molti di voi conoscono E molti no E molti no E per quelli che non lo conoscono Vi presentiamo Anzi si presenta da solo Che bello Chi sei? Allora ciao a tutti Sono Sebastiano Serafini E sono un musicista Che vive in Giappone Da tanti di quegli anni Che manco me lo ricordo Faccio musica Faccio colonne sonore Faccio un modello prima Adesso faccio Youtube in italiano In cui parlo e straparlo Di argomenti Già trattati da altri youtuber Però lo fa dal suo punto di vista E' super divertente E' molto anche informativo E io vi consiglio di guardare i suoi video Perché a me mi fanno veramente Mi piacciono da morire E poi mi ha comprato La ciambellina Perciò Poi ti la ho 5 euro E sono anche un ninja Guarda E oggi Ma cosa stiamo facendo oggi? Dovevo dire cosa stiamo facendo Cioè Stiamo a Pizza Hut E stiamo aspettando la pizza Guardate quanto è contenta La nostra Mary Di mangiare la pizza La pizza in Giappone E' più buona Della pizza in Italia Confermi Eh non lo so Lo scopriremo Nell'attesa di 15 minuti Vogliamo iniziare a mangiare la donut Aspettiamo a casa La mangiamo? Sì Puoi fare te la prima La uccido io No 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 Figlio mio E vabbè ma io sono famosa Per uccidere i dolci Ho anche un video Che lo dimostra Il Totoro Buttiamolo via Che non voglio sporcare Questo paese Che però non ha i bidoni Esatto Questo è dovevi dire Una delle cose Che non mi piace del Giappone Che non ci sono Abbastanza cestini in giro Comunque Mi chiede una curiosità Che cos'è questo? Perché questo è un peperone Sembra un fungo Un fungo ribaltato Non sei proprio intelligente Mary è una ragazza per spicacce Questo è il formaggio Questo è il pomodoro Non hanno messo la mozzarella Che è la parte più importante Vabbè della pizza È tutto questo bianco Pizzacatto Mary dai Vuoi essere un po' sincera Con i tuoi fan? Cioè? Di quanto ti ha pagato Pizzacatto Per fare questo video Di la verità Adesso expose No, non ho lo sponsor Io figura Io lo so che ti hanno pagato Per fare questo video Ma magari Mi fanno in pizza A me andrò di vedere Vediamo che pizze hanno Commentiamo le pizze che hanno La prima pizza è È la bistro Ok, che la conosci? Bistro 4 Non lo so Una pizza a cut Ah no Sembrerebbe tipo Come se fosse la 4 stagioni Esatto Perché c'è il brì Però sembrano tutte 4 stagioni Non volevo dirtelo Hai ragione Sono delle serie Ah no, è vero Bistro 4 Ok, quindi sono 4 stagioni Vedi Perché poi puoi sceglierle anche C'è tipo Qua c'è tipo Questa è quella coreana Con il barbecue La pizza barbecue Famosissima Io odio la pizza pescatore Non mi piace Ah sì Secondo me il pesce Sulla pizza non è buono Ma poi i broccoli anche C'è i broccoli Sì, i shifudo mix Sono i broccoli di mare Broccoli di mare Poi c'è la pizza Nighiacca Nighiacca che vorrebbe dire Rumorosa Infatti è un cesso Allora che è Effettivamente non è che Si, no Cos'è che c'è dentro C'è una fragola questa No Vabbè Io comunque a me piace La pizza margherita Di solito prendo sempre La prosciutto e funghi Per dire quindi Sono un po' noioso La super supreme Questa io odio la maionese Sulle pizze Patate e maionese Io amo le patate Ma non mi piace La maionese sulle patate E noi abbiamo preso questa Noi abbiamo preso la deluxe Soltanto perché costava di meno Ho detto vabbè Se tanto dobbiamo farci male Bimbo Almeno Bimbo da carattere No, non siamo bimbo Ma siamo Comunque Risparmiamo Perché io Devo pagare un affitto Di quasi 50 metri quadri Più un'altra Di altri tradis Comunque la pizza Questa sugli 8 euro Vediamo se è pronta Adesso glielo chiediamo Ah, mo di chiacatta Adesso? Zoom Non mi piace Non mi piace Tutto bene? Adesso Mi ha detto che possiamo riprenderlo Guardate qua la pizza Ce l'ha già messa nella confezione Ci ha messo anche la pubblicità Che così se vogliamo tornare Possiamo tornarci Grazie Andiamo a mangiare la pizza Grazie Non si fa mai portare le borse alle signore Ok, questa è la pizza È il cartone della pizza Sì, grazie Guardate che bello Il cartone della pizza Natalizio Quindi Guardate che bella È già tagliata Bene Allora reaction Profumo decente Non sa di pizza Ma sa di pocaccia Secondo No, sa di pizza È un profumo di pizza Strano Cosa interessante Che in America I peperoni È il salamino Sì E la paprika È il nostro peperone Sa tanto di formaggio Che ovviamente Non è mozzarella Ma è un formaggio Io direi Che più aspettiamo Più farà schifo Esatto Non sarai mangiare La pizza in Giappone Costo 10 euro Com'è? La pasta Tu hai scelto te questa pasta Io a me piaceva più crispy Più crispy Infatti la pasta è un po' gommosa Come la assaggiare anche a me Sa tanto di formaggio Cioè uno si aspetterebbe la mozzarella Ma ovviamente È anche dolce Vero? Sembra dolce Esatto Però aspetta In dotazione ci hanno dato No dai Lo puoi usare Che? Dov'è? In dotazione ci hanno anche dato L'olio piccante Questo hot green chili sauce Non è russo di solito Il chili Dovrebbe essere messicano Ma lo metti dalla tua parte No, non lo so C'è anche te Scusa Devi fare la youtuber Che fa le review del cibo E va bene dai Lo devi fare a 360 gradi Allora quanto ne metto? Vuole più? Oddio Tantissimo È verde Ma sei pezzo? Beh lo mettiamo qua Tanto che così Se fa schifo Poi abbiamo questo no? Appunto non Lascia stare questa parte qui Bene Allora non voglio Oh mio dio Quanto ne è? Oh mio dio No vabbè Hai rovinato la pizza No non l'ho rovinata Ma ha migliorata Secondo me Vediamo Dove fai te la video reaction a questa? Ah devo farlo io? Devo sacrificarmi? Guardate come si presenta bene Cioè sembra veramente deliziosa Ok è veramente invitante Sembra Ma senti io sento già il piccante in gola Che non ho ancora mangiato niente Mi piace il piccante? Ma sì mi piace però Assaggiamo? Sì vai Morirò Addio mondo Bene Ce la ricordiamo così Non è piccante? No ma secondo me è più speziato che piccante però? Sì è piccante Ma non è così eccessivamente piccante Effettivamente fa paura perché Perché? Il colore sembra chimico Però con questa salsina peggiora tutto Peggiora peggiora anche peggiora Mi sa che prima non è che fosse No però secondo me è meglio No Però sai io ho fame in questo momento Perciò mi sembra anche migliore di quello che era il tar Ma è così diversa dalla pizza in Italia? Sì è totalmente diversa Ne hai mangiata più di me Mi sembra che la stai veramente divorando Allora Dai guarda ti lascio questa E vabbè Comunque la pizza è quasi finita Non sa come Vedo che non mangi la crosta Tutta è una di queste donne che non mangia la crosta No la crosta la mangio anche me In questo caso è troppo mollacciosa Come molla? Mi sembra secca No non è secca È tipo veramente gomma Vabbè Ti vediamo al prossimo video Vuoi aggiungere qualcosa? C'è qualche messaggio promozionale? No io non sono sponsorizzata da Pizza Hut Questo sia chiaro Va bene Ok Ciao Oggi stiamo andando mangiando pizza di nuovo Però è in un ristorante buonissimo E conosciuto da un sacco di italiani Quindi vediamo se è meglio di sempre pizza Oggi siamo a pizzeria Ciro Che è questa pizzeria che è super popular con gli italiani E c'ha un sacco di cose buone Quindi ho detto vabbè Vi faccio vedere che cosa hanno da offrire in questo ristorante C'hanno praticamente tutte le pizze Perché c'hanno la margherita, la funghi, la romana, l'arrabbiata E tra l'altro c'hanno le pizze rosse e le pizze bianche Quelle bianche sono più tipo la calabrese Oppure c'è questo monte bianco Poi c'è la pizza Ciro E c'hanno tutti gli ingredienti che vengono dall'Italia E tra l'altro il loro forno è anche a legna Quindi è veramente buona Innanzitutto noi abbiamo anche preso due prosecchi E anche abbiamo preso un arancino e una crocchetta Quindi vediamo proprio com'è questa pizzeria Che è veramente veramente Sono un sacco di italiani Io ve la consiglio Costa anche relativamente poco Oddio costa di più che in Italia Però con 6-7 euro la margherita ve la prendete E poi magari ce ne sono altre che possono costare buon 13 euro Però sono veramente buone Ed ecco qui che è arrivata la prima pietanza di oggi Che è questo arancino e questa crocchetta L'arancino che sarebbe una crocchetta di riso Ma cosa ve lo spiego a fare a voi E poi questa crocchetta che è fatta con la mozzarella E poi è arrivata anche la mia insalata Il prosecco Guardate come siamo organizzati oggi Itadakimasu Buon appetito Mamma mia è buonissimo È veramente croccante Ecco qua l'arancino Itadakimasu È buono E l'insalata non è niente di speciale È un'insalata normale Ecco qua che è arrivata la pizza Ma vogliamo parlarne Guardate quanto è autentica Si vede che è stata proprio cucinata in un forno a legna E uno dei motivi per cui la pizza sembra così autentica Perché il nostro cuoco ha studiato proprio a Napoli per degli anni E sa anche parlare italiano Questo giapponese che però adora l'Italia La pizza italiana Secondo voi sarà buona? Io penso proprio di sì Vabbè mangiamola Il profumo anche è delizioso comunque Buono? Buono Adesso la assaggio anch'io Ecco qui Io ho preso la pizza ai funghi Adesso me la gusto Vediamo se è buona È buonissima Poi con i porcini e anche dei funghi giapponesi Perché c'è dentro le ringhe Ecco qua la nostra pizza margherita Questa ha decisamente un aspetto più giapponese delle altre pizzerie Ma costa veramente poco Vediamo se è buona Anche il formaggio non penso sia proprio mozzarella mozzarella italiana Però assaggiamola Itadakimasu È buona Ha più sapore della speedy pizza forse Avete presente quelle pizzerie Quelle che metti nel tostapane Che c'erano le pizze pronte in cui c'è un po' quel sapore Diciamo è buona Non è la pizza italiana Diciamo forse questa è la meno autentica delle tre Però perché no Se vuoi tolterti un po' quel desiderio di pizza La puoi mangiare qua Vabbè io adesso finisco di mangiare questa pizza Ditemi quali delle pizze che vi ho fatto vedere vi piace e vi ispira di più Noi ci vediamo domani alle due con un nuovo video Ciao Ciao